C'è l'ok al concordato preventivo. La compagnia catanese low cost Windjet non fallirà. L'accordo permetterà alla società del patron Nino Pulvirenti di saldare i debiti contratti sia con i creditori privilegiati, ovvero lo Stato e i dipendenti, sia con i cosiddetti chirografari. Nello specifico saranno pagati per intero i crediti privilegiati, ovvero IVA e le ritenute fiscali, nella misura del 47%. I restanti crediti privilegiati saranno invece degradati e saranno pagati nella misura solo del 5%. A fare da garanzia per la restituzione di parte dei crediti è stato lo stesso Pulvirenti che ha messo a disposizione il capitale della sua holding finanziaria SPA, di cui appunto è titolare, con una copertura finanziaria giudicata soddisfacente. Lo stratagemma permetterà di pagare i debiti in parte e di porre in liquidazione la società, ma non c'è ancora nessuna certezza sulla possibilità di una rinascita delle aziende. Evitato il fallimento formale, a quasi un anno e mezzo dallo stop ai voli, dunque gli aerei restano comunque a terra e l'occupazione è altrettanto. Si riapre, però, la speranza di una nuova cordata per far rinascere la compagnia. Una speranza comunque residuale e tutta da valutare.